Easy, Easy, EasyZip Come convertire MP4 in WEBM? Vai a EasyZip.com quindi fai clic su Converti, Video, quindi naviga nel convertitore da MP4 a WEBM. Fai clic su Seleziona il file MP4 da convertire per aprire il selettore file o trascina e rilascia il file MP4 direttamente su EasyZip. Fare clic su Converti in WEBM. Inizierà il processo di conversione che richiederà del tempo per essere completato. Fare clic su Anteprima per vedere il file convertito nel browser. Fare clic su Salva file WEBM per salvare il file WEBM convertito nella cartella di destinazione selezionata. È così facile. Spero che aiuti. Clicca sul logo e iscriviti. Significherebbe molto per noi. Grazie.